Come anticipato prima, è possibile abbinare anche degli oggetti animati al nostro P-Array per poter effettuare uno scatter con oggetti animati. In questo caso abbiamo questa T-Pot, la quale è stata animata con un modificatore Band, nulla di particolarmente complesso. Essa effettua questa sorta di animazione giusto a titolo di esempio per poter realizzare il nostro tutorial. Se io volessi, potrei utilizzare un P-Array. Il P-Array ci permette, come abbiamo visto, di poter abbinare, quindi di disporre su un piano, le nostre Particles. Possiamo andare a visualizzare la Mesh, io ho già comunque effettuato il setting con pochi Particles per una questione di rapidità, con naturalmente la vita variata in base naturalmente alla nostra Timeline, l'Emit da Stop e la dimensione, volendo possiamo andare a variare la sua dimensione, molto importante è il Grow e il Fade a 0. e la nostra Instance Geometry applicata come T-Pot. E questo è il nostro risultato finale. Volendo possiamo realizzare questo stesso identico esempio utilizzando una forma differente di emettitore. Se io vado a attivare, quindi quello che mi sono già preparato precedentemente, un P-Cloud, un P-Cloud in tipologia di Object Based Emitter, quindi applicato il nostro piano come emettitore. Modalità Mesh, Visibile, naturalmente Use Total molto basso. Abbiamo però, quando andiamo a scegliere direttamente il nostro emettitore, che sarebbe il nostro piano, abbiamo già la possibilità di vedere come si è già impostato di default pari a 0 come velocità e anche i vari emitter sono già impostati a 0. Questo ci permette una maggiore rapidità nella esecuzione del nostro esercizio. E di conseguenza abbiamo l'Instance Geometry, Peak Object e abbiamo assegnato la stessa identica geometria. Quindi questo ci permette una rapidità nell'esecuzione rispetto a un P-Array. In alcuni casi il P-Array è molto più pesante, può creare delle grandi difficoltà in fase di lavorazione, cosa che invece il P-Cloud in formato Fill Object non presenta. Qual è quindi il metodo migliore da utilizzare per distribuire delle particelle su una geometria? È indifferente, dipende da quello che dovete realizzare e naturalmente dipende anche dagli strumenti che siete abituati a utilizzare. Si possono utilizzare un P-Cloud oppure un P-Array o altri strumenti.